Musica Risanare gli edifici tradizionali dei nostri borghi storici con i fondi del PNRR se ne è parlato ieri nel corso di un'intensa giornata a Sassoferrato, Manolita Scocco. Musica Un corso in presenza e online con ben 750 collegamenti con indicazioni sulle politiche volte alla valorizzazione di borghi e centri storici con i fondi del PNRR e soluzioni per gli interventi di risanamento degli edifici tradizionali. È quello che ha ospitato e organizzato la Diasen a Sassoferrato per fornire ai partecipanti il quadro nazionale in cui si trovano borghi e centri storici. A precedere il convegno una conferenza stampa organizzata a Palazzo degli Scalzi all'interno del MAMS alla presenza di tutti gli enti coinvolti. Comune di Sassoferrato, Fondazione Simbola, Associazione Borghi Più Belli d'Italia, Green Building Council Italia e appunto Diasen. Oggi abbiamo questa grande sfida, quella di rivitalizzare, di far tornare centrali i borghi. Sassoferrato è un borgo che ospita anche la nostra azienda, il borgo inteso non soltanto come bellezza degli edifici ma anche come qualità degli stessi, salubrità e ovviamente come comunità. La nostra azienda da sempre lavora per rendere gli edifici salubri, sostenibili, renderli meno impattanti dal punto di vista energetico e abbiamo pensato insieme al nostro comune di dar centralità a un dibattito che può portare l'Italia delle periferie centrale nel mondo. È diventata quasi la capitale di questi discorsi con un numero record di connessi. Oggi ci abbiamo visto lungo quando abbiamo pensato a questo evento perché abbiamo il record di connessi dal mondo delle professioni da parte di tutta Italia. 750 circa professionisti oggi hanno acceso i riflessioni e stanno seguendo i lavori che stiamo portando avanti qui a Stassoferrato che per un giorno è sicuramente capitale del dibattito sul futuro dei borghi, sul futuro dell'entroterra, sul futuro di queste periferie che il mondo ci invidiano in termini di qualità e in termini ovviamente di bellezza e di capacità di coniugare la vita lavorativa con quella professionale.